Il Trentino risulta sempre essere ai primi posti per quanto riguarda la vivibilità e Trento è fra i luoghi più vivibili d'Italia. Andiamo a chiedere ai trentini e non perché vale la pena vivere in questa provincia. Perché vale la pena vivere in Trentino? Io sono trentino originario della Val di Cembre, di Alta Valle e credo che vivere nel Trentino è una cosa molto bella e molto significativa per il fatto che è una provincia verde. Ancora dopo tanti disastri come il Vaglia si mantiene piena di boschi e quando uno vive in mezzo al bosco respira l'aria che gli dà la salute e la salute è per la vita non per la morte. Vale la pena vivere in Trentino perché è un posto organizzato, pieno di natura e direi il posto ideale dove far crescere dei figli e dove viverei in maniera sana. Allora io sono lombarda quindi di differenza trovo che il clima è molto migliore, la qualità dell'aria è sicuro perché anche la gente si tranquilla e c'è tutto un altro clima. Poi si tranquilla, a me piace, è bello. È una bella regione dove ancora si è venuto bene. Per la tranquillità, per la sanità e per le quattro stagioni dell'anno. Consiglio di vivere in Trentino perché è una regione che consente di fare molte cose all'aria aperta. Ci sono varie alternative, montagna, lago e si vive bene, non c'è troppa gente. La buona qualità di vita, l'aria buona, il paesaggio è stupendo, tante cose da vedere, castelli. Sì, sì, è molto bello. Sì, viverebbe qui? Sì, sarebbe, sarebbe l'Italia, hai le montagne, l'acqua, l'acqua, la buona, la buona, la buona, la buona. Secondo me perché c'è un mix di bellezza, natura, ancora abbastanza incontaminata. Ottimi servizi, servizi pubblici, la scuola, servizi di assistenza, servizi sanitari. Ciao, why people di Monaco in Baviera, Baviera.